Vanta oltre mille pubblicazioni tra libri, saggi e articoli culturali riguardanti le tradizioni popolari con un particolare interesse per i canti e gli strumenti musicali. Il mondo pastorale e la civiltà della transumanza nonché le fiabe e le leggende, i riti e le feste popolari. Sono veramente felice di avere con noi oggi Mauro Gioielli, giornalista professionista e scrittore, nonché cantante, in un periodo come quello che stiamo vivendo, alle porte delle festività natalizie, non potevamo avere ospite e interlocutore migliore per addentrarci in questo clima. Ciao Mauro, bentrovato! Ciao, salve a tutti! Noi, come dicevo, siamo contenti di questo collegamento perché stiamo per vivere uno dei periodi più belli dell'anno, quello del Natale, che in Italia in maniera particolare è molto legato alle tradizioni popolari. Non a caso tu sei anche un demologo, spieghiamo questa parola particolare che altro non vuole significare, che tu sei un esperto di tradizioni popolari. Per cui, Mauro, ti chiederei di accompagnarci in questo periodo straordinariamente bello, che è il Natale, che abbiamo alle porte. Ecco, tu come lo vivi, in quale atmosfera, quale atmosfera crei tu stesso nelle tue vesti di musicista e cantante? È un periodo dell'anno dove io sono molto attivo, tengo delle conferenze, soprattutto tengo dei concerti col mio gruppo musicale che si chiama Il Tratturo, un po' dappertutto. Pochi giorni fa abbiamo suonato a Venezia, ad esempio. Il Natale è pieno, zeppo di tradizioni in Italia, alcune delle quali sono anche tradizioni musicali. Se pensiamo alle pastorali di Natale, a quelle dell'Immacolata, se pensiamo alle canzoni composte da Sant'Alfonso di Liguori, che è un patrimonio culturale musicale molto importante, che io cerco di valorizzare e divulgare. Da noi le tradizioni natalizie sono importanti, ad esempio il giorno della Vigilia, con tanti paesi dove si fanno i fuochi, richiamano culti antichissimi. Poi ci sono tradizioni culinarie, come tutti sappiamo, piatti tipici, dolci tipici. E tanto altro, sono numerose tutte le feste in questo periodo dell'anno. Il periodo delle feste natalizie è molto lungo. Di solito lo facciamo partire dal 6 di dicembre, che è la festa di San Nicola, importante perché poi San Nicola è la figura che ha dato vita al Babbo Natale. Tutto questo periodo è lungo, dura un mese, perché si conclude, come tutti sappiamo, all'Epifania. Caro Mauro, qual è il repertorio che con il tuo gruppo, il tratturo, generalmente portate in giro per le città? È un repertorio abbastanza antico e importante. Antico perché i brani che proponiamo vanno dal XV al XIX secolo, quindi è un periodo, un arco temporale molto lungo, proponiamo un repertorio dove al centro c'è la zampogna e il repertorio per zampogna e per ceramella. Il tratturo è un gruppo molisano, da noi sono strumenti utilizzati da secoli a secoli, ci sono festival importantissimi nel Molise, ci sono costruttori. Nel Molise ci sono circa 400 suonatori attivi, su una popolazione di meno di 300 mila abitanti. Quindi è una percentuale altissima, così per far comprendere direi che il Molise è la Scozia dell'Italia. I brani sono importanti perché questo nasce da un progetto che si chiama Stella Cometa, progetto che nasce alla metà degli anni 90, col gruppo, col tratturo, che poi si è in qualche modo arricchito di altre esperienze. C'è stato un disco che ho inciso con Silvio Trotta nel 2002 che appunto si chiama Stella Cometa. Ci sono diversi spettacoli che ho tenuto col gruppo di Michele Mangano e Danza Nova, un po' in giro per la Puglia e anche qui nel Molise, ma poi tantissime esperienze. Anche all'estero abbiamo portato questi canti due volte in Polonia, in Bulgaria, un po' dappertutto diciamo. Molto bene, molto bene. E dicevamo che queste tradizioni musicali spesso si legano in maniera molto forte alle tradizioni popolari e pastorali. E tu ecco, c'è un momento particolare della vita del pastore che è la transumanza. Ecco, rispetto a questo tema, che cosa ci puoi dire? Allora, io ho studiato vari aspetti della cultura transumante. Innanzitutto la cultura musicale dei pastori transumanti, ma poi anche la religiosità dei pastori transumanti. Ho scritto libri, saggi, lunghi saggi, ho tenuto conferenze un po' dappertutto. Ed è una vera e propria civiltà la transumanza, ma oltre diciamo all'aspetto culturale di per sé. Io vivo a Isegna, Isegna passa il tratturo pescassero di Candela che attraversa vari territori, attraversa anche la Campania e giunge quindi in Puglia. Mi ha sempre appassionato questo mondo pastorale. La zampugna è uno strumento pastorale per eccellenza, quindi mi sono dedicato a questi studi. Ho raccolto fiabe, proverbi, modi di dire. Ho ricercato i culti della transumanza. Anzi, voglio dire, viste che la TV vostra è pugliese, i culti principali della transumanza fondamentalmente sono tre. San Nicola, quindi Bari, l'Incoronata, Foggia e San Michele, quindi Monte Sant'Angelo. Anche se poi ce ne sono altri, non della stessa rilevanza, ma culto di Santa Lucia e altri santi. Molto bene, molto bene Mauro. Noi dicevamo che la transumanza è uno di quei momenti che ispirava probabilmente anche i pastori a recuperare cose tramandate dai propri antenati, ma anche a inventare cose nuove. Di tutto questo tu sei depositario, chissà oltre alle canzoni, alle sonate, chissà quante storie si raccontavano coi pastori intorno a quei fuochi da campo che accompagnavano i loro bivacchi. Sarebbe bello se magari, ecco, anche nei prossimi giorni, durante le festività, tu riuscissi a trovare qualche momento per raccontarci qualche fiaba, qualche leggenda, qualche storia antica che possa, come dire, risuonare anche attraverso appunto la nostra emittente. Possiamo strapparti questo impegno? Possiamo tranquillamente farlo. Ci ricolleghiamo e vi racconterò una bella leggenda della transumanza. Ecco, perfetto. Allora, mi raccomando, non prendere troppi impegni nel periodo tra Natale e l'Epifania, così possiamo sentirci recuperare il filo di questa storia meravigliosa che è la storia dei nostri antenati, dei nostri nonni, che se vogliamo, possiamo dire che se non viene conservata, recuperata e tramandata rischia di perdersi. O sono troppo esagerato? No, no, il rischio c'è sempre. Perciò io cerco appunto di divulgare queste notizie, queste conoscenze, questa cultura, proprio perché deve essere tramandata. Anzi, spessissimo vado nelle scuole, molte scuole utilizzano le fiabe a cui prima si accennava, le mettono in cene in qualche modo, fanno delle rappresentazioni, mi chiamano a parlare con loro, mi chiamano a suonare, a far conoscere da vicino questi strumenti, a farli vedere, a farli ascoltare. Lavoro tantissimo con le scuole, di ogni ordine e grado, ma soprattutto, diciamo, le elementari e le medie, con i giovanissimi che hanno bisogno di conoscere questo nostro patrimonio culturale affinché resista e venga tramandato e si perpetui in qualche modo. Molto bene, poi abbiamo detto tanti concerti anche per cui probabilmente in alcune di questi tuoi tour potresti avvicinarti a San Giovanni Rotondo e magari venire proprio fisicamente nei nostri studi a raccontarci di queste cose. Magari sì, speriamo, possibile, probabile pure. Ok, perfetto. Allora, dopo averti strappato questa promessa, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Buon proseguimento di giornata, Mauro. Grazie a voi, felicissimo di essere stato con voi. Noi restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.